Il successo non lo so, che mai fatto non lo so, so soltanto Tempo Reale Tempo Reale L'informazione in diretta della provincia di Rimini Tempo Reale Buongiorno, ben trovati all'appuntamento con Tempo Reale 27 ottobre Simona Mulazzani e Andrea Polazzi e il traffico sulle strade Il traffico sulle strade, questa mattina sì Ma chi c'è stato in questo microfono? Si è abbassato? No, ogni tanto secondo me ci sono delle presenze Delle questioni inquietanti Adesso lo fai un attimo Faccio così intanto Oh ecco, così almeno mi si sente Buongiorno a tutti Guarda che dall'altra parte vi vedo proprio disinteresse totale Tu lanci degli... Niente, vabbè, non mi succede O mi sono alzata durante la notte Potrebbe essere che sono stata più alta Lo sgabello è sempre lo stesso Lo sgabello è sempre lo stesso e va bene Buongiorno, è venerdì uno Se in questo momento è nel traffico e ci sta ascoltando il radio Dice, vabbè dai venerdì domani va meglio Cioè domani sto a casa Quindi può essere, nel senso che se oggi siete in movimento Per una qualsiasi commissione, per andare al lavoro O qualsiasi altra cosa O se siete addirittura in strada dal pomeriggio di ieri Dove c'erano tante file Magari dovete fare molta strada e siete rimasti lì Poi a un certo punto avrete accostato e dovrete in macchina Abbiamo deciso, fammi fermo Ragazzi, ma è Rimini Rimini è questa Altre strade non ce ne sono E quindi bisogna avere un po' di pazienza Forse bisogna avere pazienza anche a Roma A Milano, a Bologna Oh, anche di più Sai quanta gente aveva dormito sul grande raccordo anulare? Molti, quelli credo parecchi in effetti Si potrebbero contare Volete stare con noi questa mattina? Volete tenerci compagnia? Quella che è la puntata del venerdì In cui soprattutto cerchiamo anche di coinvolgere i nostri ascoltatori In proiezione del fine settimana Già questa mattina sentivo in tutti i telegiornali Che parlano tutti del ponte Del ponte, ma addirittura del ponte pre-ogni santi Perché noi vediamo come opportunità Visto che poi la scuola è chiusa Mercoledì e giovedì il ponte A partire dal primo di novembre E fino eventualmente a domenica Ma pare che c'è chi fa due ponti Cioè nel senso che Va da domenica questa fino al 31 Primo ponticello E poi dal primo alla domenica Secondo ponticello E un ponte a due archi Insegnavano a scuola Noi non siamo sempre qui Noi non facciamo ponte Come no? Andrea staremo a casa il primo novembre Quindi insomma Poi tu se vuoi venire Il 2 vieni pure Il 2 vieni qui con me Comunque allora Se volete In questa struttura Decido io Nessuno farà il ponte Nessuno farà No qualcuno che ha chiesto lo farà Io sto chiedendo Tu non puoi chiedere qui in diretta Io chiedo in diretta Perché non potresti dirmi di no 337-511-336 Se volete stare con noi Decidere se fate un ponte Due ponti Un ponte a doppia arcata Decidete voi Fate il ponte per i denti Che se fate quello Non c'è rimane più niente Per fare Una qualsiasi vacanza Si sta a casa Con la minestrina Un po' di yogurt 337-511-336 Come avete visto L'inizio dei migliori Scoppiettante Poi c'è la nostra pagina Facebook Inizio scoppiettante Però lo iniziamo Grazie a voi Con tanti saluti Che ci sono già rilati Allora diamo il buongiorno Il buongiorno a Irene Che augura tutti Il buon fine settimana Così come fa anche Walter E fa uguale anche Gianni Mentre sul nostro numero di telefono 337-511-336 Ci arriva già il buongiorno di Lella Con le foto che poi vi mostreremo Del piatto del giorno Ci saluta Simona Che ci augura un buon venerdì E noi contraccambiamo Così come ci saluta Giorgio Che però ci rende partecipi Di una ricorrenza Perché dice che si avvicina Inesorabilmente La data del suo compleanno Il 29 Noi non ci saremo E domenica Quindi noi gli auguri Li facciamo oggi In anticipo E poi te li rifacciamo lunedì Se ci ricordiamo Perché anche noi Purtroppo pesciolini rossi E noi abbiamo la stessa memoria Più o meno Dice una data Che per i figli e i nipoti È una gran festa Mentre per me È una mezza tragedia Perché gli anni passano Senza tregua Che ormai per spegnere le candeline Ci vorrebbe l'aiuto dei pompieri No ma Giorgio Non le esageriamo Ci sei anche passato a trovare Noi ti abbiamo visto giovanissimo I tuoi 27-28 anni Li porti benissimo Li porti molto bene Proprio così E oggi è una giornata importante Vorrei ricordarvi da subito Visto che in tanti Poi ce lo avete chiesto È una giornata che Papa Francesco In cui ha invitato tutti noi A vivere una giornata di preghiera Di digiuno E di meditazione Di adorazione Per chi desidera farlo Ma semplicemente Anche per chi Non ha un particolare Cammino di fede Pensare E provare insieme A chiedere la pace Papa Francesco Lo farà questo pomeriggio Alle 18 In Piazza San Pietro Con un momento di preghiera Di una oretta Che noi appunto Manderemo in onda Quindi questa sera Alle 18 Anzi 17 55 Perché desidera Essere in studio con noi Anche in attesa Del collegamento Con Piazza San Pietro Il nostro vescovo Monsignor Nicolò Anselmi Vivremo insieme Questa ora di preghiera Da Piazza San Pietro Perché l'idea È che Che è un po' Anche quella che ha condiviso Il vescovo Ieri facendoci Il suo invito È Tutti coloro che possono fare Un momento in comunità O anche In casa Lo facciano Ma anche la tv In questo senso Può essere Di servizio La tv di servizio Ecco in questo caso Direi che Fa proprio il suo vestire Io ho invece Il classico Annuncio di servizio Vai Annuncio Nella notte Tra sabato e domenica Cambierà l'ora Quindi alle ore 2 Dovrete portare avanti Di un'ora L'orologio Perché fa tutto Ormai fa tutto in digitale Non è vero Io ho ancora la sveglia Di quando avevo 10 anni E devo tutte le mattine Tutte le mattine Cioè due volte all'anno Le mattine devo spegnere la sveglia Ecco sì Perché molti hanno Alexa Che li sveglia No io no Io lo telefono Telefono direi Perché tu lo tieni acceso Di notte Giustamente Fa comunque La sveglia Anche se è spento Sì lo so Ma tu lo sappiamo I direttori tengono sempre Il telefono acceso E quindi bisogna portare avanti Ecco io non so Non sono favorevole Andrea Sì io non particolarmente A questo cambio d'ora Io sono affezionato Sono a me piace I cambiamenti Non mi piacciono E ma in che senso Ma appunto Stavamo così bene adesso Perché c'è un po' più di luce Io sono nato che c'era L'ora solare L'ora legale E deve restare così Almeno finché io sarò qua Ecco L'ho detto Eh va beh qua In questa struttura No sarò qua In questo mondo Va bene Allora abbiamo detto tutto Perfetto Siamo pronti a partire Anche con le notizie Voi cosa ne pensate Siete pro Ora solare Ora legale Vorreste che Rimanesse sempre la stessa La solare Adesso credo inizia Quella solare Sì Quella legale Quella che porta l'orologio indietro Ma quel buio Che già arriva alle 4 4 e un quarto Perché stamattina Quando alle 7 Era un buio Ma sì Ma è normale Che di notte sia buio Alle 7 Non è notte È notte ancora Per molti sì Un'ora indietro No si va un'ora avanti Io direi un'ora avanti Si va un'ora avanti Gianni No lo dico Perché Gianni dice No si va un'ora avanti Tanto che è il periodo In cui si dovremmo un'ora in meno Esatto Esatto E proprio così E fa buio prima Perché va un'ora avanti Sì Vuol dire che Esatto Vuol dire che alle 17 Che adesso ancora c'è luce Saranno le 16 Da domenica Saranno le 16 Perché abbiamo portato un'ora indietro Esatto Un'ora avanti Un'ora indietro Un'ora avanti Sì sicuro Guarda adesso Ma va bene Allora Io non voglio saperlo Perché non lo so Si va un'ora avanti E continuano a saperlo Io per fortuna Matteo Monaretto Si va un'ora avanti Adesso che Cosa fa controlla Ci stia messo in crisi No ma io sono certo Di quello che dico Ma vedi Ma io sono d'accordo con te Se fa buio prima Se fa buio prima Si va un'ora avanti E certo Adesso noi aspettiamo Non lanciamo nessun servizio Fino a che non arriva La prova approvata La risposta Vabbè Allora Giorgio ci vuole ragazzi Buongiorno ragazzi belli Che il suo hashtag Esatto Se avete delle certezze Ma sarà Un'ora indietro Ma ho detto niente È vero Si va indietro Ma io Volevo vedere se eravate pronti Ma tu hai detto che si va avanti Ma è perché volevo mettere alla prova Cioè E quindi fa buio prima Ho destabilizzato tutti Tutti i domani Andranno di nuovo avanti Ho destabilizzato tutti Infatti mi sembrava Stavo Perché sarà più buio In realtà no È il contrario È vero Logicamente mi sembrava Che non funzionasse Il tuo ragionamento Però so che poi Se ti dico Ma tu hai perfettamente ragione Io è che a quest'ora Non capisco già più niente E quindi Iniziamo bene la mattina Ero certo Hai voluto dare tu la notizia Esatto Allora domani D'altra parte Noi siamo di servizio O di servizio Cambia poco no Quindi mi raccomando Possiamo iniziare questa mattina Possiamo rimettere la sigla A quest'ora E far finta Che è tutto È tutto finito Si va un'ora indietro Si va un'ora indietro Tente reale Tente reale L'informazione indiretta Della provincia di Rimini Devo salutare di nuovo Si si buongiorno Buongiorno Andrea Si va un'ora indietro Si va un'ora indietro È la nostra È una radio È una tv di servizio Comunque Antonio Ti dice Che propone una raccolta di firma E lui la pensa come te E quindi Sempre cambiamento Ora solare Ora legale Come Siamo stati abituali Come me Non sia come me Nel sbagliare L'indicazione La fortuna È che questo cambiamento Avviene automatico No no Al di là che venga automatico Viene tra sabato e domenica Esatto Perché secondo me Se avvenisse Durante un giorno della settimana Ma tu guarda Io nella mia vita Non l'ho mai sbagliata Questa cosa Non so perché oggi Che mi sono messo a fare L'annuncio ufficiale Ho sbagliato L'indietro Adesso noi facciamo finta di niente Oggi No ma io voglio ringraziare Enrico e Gianni Che hanno subito capito Le mie difficoltà Psicofisiche Mentali Sei bello e bravo Lo stesso Direi Soprattutto so come cambia l'ora Allora Diciamo che Quest'oggi I giornali Scusateci Questo divertissement Iniziale Perché A livello di cronaca Non ci regalano Delle belle pagine Purtroppo Ci sono ancora Tante notizie Che ci affaticano tanto Proprio questa mattina Si torna a parlare Intanto Del ragazzo Del 21enne Dello youtuber Di cui abbiamo parlato Noi ieri Di questo Ragazzo che è accusato Di aver molestato Anche sessualmente Di aver addirittura Aggredito Un ragazzino Di 13 anni Di cui si era invaguito Insomma Una situazione Veramente terribile I colleghi Dei quotidiani Ho visto che sono andati A ripescare un video Di questo ragazzo Rissalente All'anno scorso Dove probabilmente Questi episodi Erano già avvenuti E lui in un video Così pubblicamente Parlava della gelosia Parlava comunque Del bene Che continuava Ad esserci Che avrebbero fatto pace Presumibilmente Insomma Riferendosi proprio A questo bambino Perché stiamo parlando Praticamente di un bambino E quindi Ancora questo Fa capire Che cosa Possa significare La rete Per alcune persone Come Per qualcuno Sia quasi Una sorta Di luogo Dove raccontare Anche fatti Assolutamente Nefasti Che li riguardano E effettivamente Forse Bisognerebbe fare Un po' più Di attenzione Anche a quello Che fanno I nostri I nostri figli Comunque si tratta Anche in questo caso Di un ragazzino Di 21 anni E vabbè Questa è una situazione Che quest'oggi Si parla molto Sui giornali C'è poi Un richiamo Anche ad un'intervista Giusto Andrea Che Giuliano Ricordiamo Il figlio È intervenuto Da chi l'ha visto Esatto Che è tornato a casa Un paio di giorni fa Con tutto il contorno Dei giornalisti Che lo inseguivano Lui in quel caso Non aveva rilasciato Dichiarazioni Ha invece deciso Di parlare O comunque Di rilasciare Un'intervista Appunto Al programma Chi l'ha visto Cosa ha detto Andrea Tu hai guardato Letto qualcosa Credo che l'intervista Sia stata abbastanza Lunga e articolata Però in particolare Si è fatto Da tramite Con quelle che sono Alcune richieste Che erano arrivate Alcuni appelli Lanciati dalla stessa procura In merito all'incidente Del maggio scorso Che l'ha visto coinvolto Se qualcuno ha visto qualcosa Si faccia avanti Perché insomma Si cerca di capire Se ci possono essere Dei collegamenti Tra quanto accaduto Nel maggio scorso E l'omicidio Di Pierina Paganelli E collegamenti Che finora Sono stati esclusi Dagli inquirenti Che evidentemente Vogliono però Avere la certezza Di questi fatti E diciamo che Ieri comunque Sono continuati Anche i collegamenti Nelle varie trasmissioni Che si occupano Del caso Di questo caso Come di tantissimi Altri casi di cronaca In noi che ci sono In Italia E ieri è stata intervistata Una giovane mamma Perché c'era La questione legata Delle tracce di sangue Che erano state trovate Anche all'interno Dello scantinato E quindi Si parla Del fatto Che la mamma Insomma una mamma Perché Perché ha raccontato Che la figlia Ha avuto un piccolo incidente Insomma è caduta Dalle scale Si è fatta male Una piccola ferita E quindi anche Quel sangue Una parte di quel sangue Potrebbe essere riferito A questo piccolo incidente E poi alla ricerca Sempre di notizie I colleghi hanno anche Intervistato un signore Un vicino di casa Che ha raccontato Di aver sentito Delle grida In quella In quella serata In particolare Attorno alle 22.10 Del 3 ottobre scorso C'è poi un'altra Notizia di cronaca Anche noi l'abbiamo scritta Sul nostro sito In questo caso Anche questa Purtroppo ci porta Ad un incidente Ad un incidente Che aveva visto coinvolta Una persona che purtroppo Poi era deceduto Un signore anziano Di 78 anni Che era deceduta Poi qualche giorno dopo Al Bufalini di Cesena Cinque giorni E era stato trovato Organizzante In una rotonda Il 19 agosto Di quest'anno Esatto Siamo diciamo In C'è una stazione Dove c'è la chiesa Di San Nicolò Di San Nicolò Esatto La rotatoria di piazzale Cesare Battisti Sembrava appunto In realtà è emerso Che Sembrava che fosse stato Un malore Che lui fosse caduto In autonomia In realtà è stato Colpito Da un veicolo Poi alcuni testimoni Hanno raccontato Che dopo questo Impatto Che tutto è stato Ricostruito Grazie a testimoni E alle telecamere Che sono posizionate Nella zona Questo ragazzo Un ragazzo Di 24 anni Se non sbaglio Conducente di un'utilitaria Ha accostato Si è fermato È sceso Dall'abitacolo Avvicinandosi All'anziano a terra Poi invece di chiamare I soccorsi È risalito in auto E si è allontanato E la procura Qualcuno l'ha visto Del divertissement Sull'ora legale Solare E il mio errore Posticipo Anticipo ora Vienerditi Si è Ieri L'amministrazione comunale Di Rimini Ha Aggiornato Sui maxi Cantieri In corso Lungo la statale In particolare Ci sono delle novità Che scatteranno Proprio Sono scattate Adesso forse Il maltempo La pioggia di questa mattina Ha posticipato Di qualche ora L'avvio degli interventi Però In giornata Partiranno Dei lavori Per quella Che è stata definita Variantona Siamo all'altezza Della rotatoria Che dovrà In parte Già sorta Ma dovrà sorgere Tra la consolare Per San Marino E la statale Adriatica Sappiamo che Poi quell'intervento È quello che ha comportato Anche la chiusura Di via Euterpe Poi anche di parte Di via della Repubblica Ma sentiamo Quello che cambierà Nella prossima settimana Con gli interventi Al via da oggi Novità in vista Per il maxicantiere Per la rotatoria Tra statale Adriatica E consolare Per San Marino A Rimini Domani Venerdì Partiranno gli interventi Per deviare Tutto il traffico Proveniente da sud Sul lato monte Della rotatoria E liberare così La parte più amare Per consentire La prosecuzione Dell'opera La deviazione Ribattezzata Variantone Dai tecnici Sarà operativa Entro la prossima settimana E successivamente Sarà spostato Anche l'ingresso Al centro cristallo MD Con un accesso Dedicato dalla statale 16 Alla chiusura Di quello attuale Su via della Repubblica Per ragioni di sicurezza Della circolazione Sarà chiuso Anche l'accesso Da monte Alla semi rotatoria Per chi proviene Da San Marino E deve proseguire Verso Riccione Direzione percorribile Quindi solo Nella corsia di destra Della consolare 72 Il nuovo assetto Spiegano dal comune E' stato pensato Per garantire al meglio Il transito Dei flussi di traffico Anche in vista Dell'evento fieristico Ecomondo In programma Dal 7 Al 10 novembre Alla fiera di Rimini La polizia locale Terrà monitorata La situazione Compressi di in zona Per limitare al massimo I disagi Un'attenzione particolare Nell'area Della rotatoria Montescudo Ci sarà invece In occasione Del concerto Di Liga Bue Previsto allo stadium Il 30 ottobre E diciamo Dopo la nota Diffusa Dal comune Di Rimini Ne è arrivata Nel pomeriggio Di ieri Un'altra Da parte Della prefettura Perché nella giornata Di ieri C'è stato Un comitato Per l'ordine La sicurezza pubblica Dedicato proprio Al tema Ecomondo Che abbiamo sentito Essere nelle attenzioni Dell'amministrazione comunale Dal punto di vista Della viabilità Si stimano 70.000 Presenze Per quanto riguarda La fiera Tra l'altro Ieri al comitato Oltre alle forze Dell'ordine I rappresentanti Dei comuni Era presente Anche un rappresentante Di IEG Della fiera Di Rimini Anche perché c'è Molta attenzione Anche da un altro Punto di vista Che è quello Della sicurezza Vista la situazione Internazionale Quindi sono state E saranno messe In atto Alcune Alcune attenzioni In più Rispetto al solito Ci sarà una migliore Distribuzione Hanno spiegato Della fiera Dei flussi Degli ospiti Con l'apertura Di tutti gli accessi Dotati di scanner E metal detector Inoltre I mezzi saranno Controllati Le eventuali uscite Dall'area Verificata Verificate Genereranno Un nuovo controllo In caso di rientro Quindi Insomma Non sarà sufficiente Un primo controllo Ma in caso appunto Di andata e ritorno In fiera Ci saranno Nuovi controlli Sulle persone Le linee del trasporto Pubblico Da e per la fiera Saranno convogliate Tutte verso L'accesso sud Della struttura Che è quello Dove poi c'è anche L'arrivo Della stazione ferroviaria Quindi dei treni C'è la stazioncina Dedicata alla fiera E nonostante appunto Dalla prefettura Dicono Non si segnalino Elementi di particolare Preoccupazione Le forze dell'ordine Attueranno specifici servizi Sul versante Della prevenzione Ma anche Della vigilanza Per tutelare Tutte le persone Che accederanno Alla fiera Ma in realtà Insomma Tutta la città In quei giorni Saranno giorni Abbastanza Complicati Ricordiamo che Comondo È in corso Partirà il 7 di novembre E si concluderà Il 10 Esatto Quindi il 7 È un martedì E continua Praticamente Per tutta La settimana Visto che siamo A Rimini Ieri Il sindaco Jamil Saregolvad Non ha fatto in tempo A scendere Dall'aereo Che lo riportava A casa Da Parigi Dove un paio di giorni fa C'è stata la presentazione Del Tour de France Di cui abbiamo parlato Che subito Che subito Ha voluto Lanciare Un allarme Un allarme In particolare Legato alla nuova Finanziaria Per cui In questa nuova Finanziaria Chiaramente Consentiteci sempre Di dire C'è una questione Più amministrativa Gli amministratori Lo dicono Insomma Noi comunque Quando diventiamo Amministratori Tu cura Al di là Della posizione politica Però chiaramente C'è anche Una posizione politica Perché qui Insomma Si è Particolarmente Contrario O meglio Saregolvad È particolarmente Contrario Alla manovra E alle scelte Fatte dal governo Che ricadranno A detta del sindaco Pesantemente Proprio sui bilanci Anche Riminesi Anche su quelli Che erano Dei progetti Importanti Per la città Vogliamo leggere Due cose Andrea Anche le trovate Sul nostro sito Poi in modo Dettagliato In realtà Insomma Il sindaco Di Rimini Parla di una Mobilizzazione Che coinvolge Un po' Tutti i comuni Poi vedremo Se sarà Una mobilizzazione Dei comuni Di un determinato Colore O dei comuni Tu cura Il motivo Di critica Sono alcuni Elementi Secondo il sindaco Non così evidenti Ed evidenziati Ma presenti All'interno Della bozza Della legge Di bilancio 2024 Il sindaco Usa un'espressione Piuttosto colorita Perché dice Che praticamente È come se Il governo Fosse quella persona Che beve il caffè E poi lascia il conto Da pagare A chi resta Il caffè sospeso In questo caso È al contrario Perché il caffè sospeso Tu lo lasci Pagato per qualcuno Sul fronte appunto Delle cifre La stima Che il sindaco Ha dato in pasto Ai giornalisti Dice di 2,3 milioni Di euro Di tagli Che a seguito Della bozza Di legge Di bilancio Dovrebbero andare A colpire Il comune Di Rimini Nelle risorse statali Quindi è un aumento Di cui dovranno Farsi carico In questo caso I comuni E nella fattispecie Il comune di Rimini Non sappiamo Se anche gli altri comuni Stiano andando a fare I conti di dettaglio Per capire Quanto eventualmente Inciderà questa manovra Sui bilanci Ma insomma Se sono 2,3 milioni Per il comune di Rimini Immaginiamo Che siano cifre elevate Per tante altre realtà Chiamate proprio In queste settimane Ad andare A definire Ad approvare Il bilancio 2024 Di cui i capisaldi Per quanto riguarda Rimini Erano stati Espressi proprio Dal sindaco Qualche giorno fa Poi è arrivata Questa Tra virgolette Sorpresa Vedremo appunto Se in effetti Ci sono un po' Di punti interrogativi Su questi conti Se tutto andrà A confermarsi Oppure ci saranno Ci sarà la possibilità Di andare a limare Alcuni di questi tagli Annunciati Grande preoccupazione Insomma Per quello che riguarda Rimini Ma come diceva Andrea Forse è un approccio Alla finanziaria Che avranno tutte le amministrazioni Intanto Insomma Il sindaco Ci ha tenuto Comunque A specificare Quello che riguarda Credo che se sarà protesta diffusa Se ne farà ovviamente Da portavoce capofila Lanci Che è l'assemblea Dei comuni italiani Che rappresenta Proprio tutti gli enti locali Del nostro paese Quindi se sarà una Eventualmente Protesta Che avrà altre modalità Sicuramente se ne farà capo Questa associazione Non capisco Andrea Perché questa mattina Il resto del cardino Dedichi un articolo Alicio Serpieri Penso che ci sia una ricuarenza Sì no Lo so Non capisco perché Non abbia scritto Tra gli alunni illustri Anche tu e Max Alberici Perché dice Tra i suoi alunni Elio Pagliarani Medici Gobbi e Pesarese E l'arcivesco Vocelli Si sono dimenticati Il giornalista Andrea Polazzi No A parte gli scherzi Un bellissimo articolo Tra l'altro A me mi hanno lasciato Da parte Viste le mie gaffe Del venerdì mattina Parleremo anche noi Però un secolo sui banchi Tanto credo che anche il sindaco Di Rimini è un ex serpierino Sì 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 Ce ne sono tanti Ed è bella questa storia Appunto che arriva A cento anni È proprio Una bella Insomma Penso che tantissimi Anche che ci stanno ascoltando Hanno frequentato questo liceo Un bellissimo articolo Firmato da Manuel Spadazzi Per ricordare Proprio Come sia un luogo Sia stato un luogo Di educazione Di apprendimento Ma anche Di movimenti studenteschi Le proteste degli anni Sessanta Settanta Insomma una bella pagina Di storia riminese Dal punto di vista Della scuola Volevo completare E è rimasta Un po' defilata Questa notizia È arrivata questa mattina Sempre di cronaca Ah sì Per completare un attimo Anche Hai ragione Il nostro La nostra pagina Dedicata Alle notizie Menoliete Perché la guardia di finanza Ha pizzicato Un allevatore Di cani Di razza Che aveva nascosto Al fisco Mezzo milione Di euro Perché lui aveva Allevamenti di cani Di razza Siamo nel misanese Credo Ma si presentava Come allevatore Amatoriale Per non avere Obblighi fiscali Il titolare Infatti non presentava La dichiarazione Dei redditi Da oltre cinque anni Quindi vendeva In modo Insomma così La guardia di finanza Di cattolica Lo ha scoperto Nei giorni scorsi Nell'ambito appunto Di controlli Effettuati sul territorio Sono stati individuati Tre allevamenti Di cani di razza Che svolgevano Attività Nei comuni di Misano E di Montefiore Risultati poi essere Evasori totali Circa cinquecento cani Che erano stati venduti Senza rilasciare Alcun documento fiscale Operando quindi Completamente In nero Con ricavi Non dichiarati Al fisco Calcolati in circa Mezzo milione Di euro Ah però Insomma Mica male Buongiorno anche a Lucy Insomma Che si aggiunge A coloro Che ci stanno salutando Dalla nostra pagina Facebook Di tempo reale Come sapete Il venerdì È il vostro giorno Quindi c'è la nostra pagina Facebook Ma anche Il nostro numero 337511336 Adesso torniamo a parlare Di sanità Perché Noi l'abbiamo fatto Scorsa settimana Con un approfondimento Nel corso di fuori dall'aula Dedicato in buona parte Proprio ai centri Di assistenza Ed urgenza I cosiddetti CAU Questo L'acronimo Ieri la regione Ha diffuso La mappa Dei primi 30 Che entro La fine di quest'anno Siamo quasi a novembre Quindi manca ben poco Saranno operativi In tutta la regione Tre di questi Si trovano In provincia di Rimini Allora sentiamo Di cosa si tratta Dove sono E come funzioneranno Entro fine 2023 Partiranno In Emilia Romagna I primi 30 Centri di assistenza Urgenza CAU Uno dei pilastri Della riforma Voluta dalla regione Si tratta di strutture Territoriali A regime Almeno una Per ogni distretto sanitario Dotati di equip Medico-infermieristiche Che quando il percorso Sarà completato Saranno attive H24 Sette giorni su sette Con un bacino d'utenza Tra 35.000 E 75.000 Abitanti L'obiettivo È quello di sgravare Il pronto soccorso Delle urgenze A bassa complessità Clinica e assistenziale Dei 30 CAU Che partiranno Entro fine anno Nove Si trovano in Romagna Tre Proprio nel Riminese Due Nei punti di primo intervento Di cattoliche Sant'Arcangelo Uno Adiacente Al primo intervento Di Nova Feltria I restanti CAU Romagnoli Saranno a Cervia Cesenatico Mercato Saraceno San Piero in Bagno Santa Sofia E uno adiacente Al pronto soccorso Di Ravenna Al momento AICAU Si accederà Recandosi di persona Nei prossimi mesi però Sarà attivato Il numero unico 116 117 Dove i centri Non sono ancora aperti Si continuerà A fare riferimento Alla guardia medica E per l'emergenza E il pronto soccorso Siamo convinti Commenta l'assessore regionale Alla sanità Raffaele Donini Che questa riorganizzazione Possa migliorare ulteriormente Sia l'appropriatezza Sia i tempi Della presa in carico Tanto per le emergenze Che continueranno Ad essere gestite Unicamente Nei pronto soccorso Quanto per le urgenze Che troveranno Invece A risposta Adeguata Nei CAU Sabiamo che È un tema Di battuto Alcuni addetti ai lavori Hanno già manifestato Alcune perplessità Noi abbiamo avuto modo Di chiacchierare Con la guardia medica Ma anche con altri Esponenti Sindacali Ad esempio I sindacati Innanzitutto Manifestano Il disagio Devuto al fatto Che questa riforma Gli è stata presentata Una volta fatta Quindi non è stata condivisa Ma condivisa Una volta Che era già definita Quasi nella sua Nella sua interezza Quindi con una mancanza Di partecipazione Da parte della guardia medica In particolare Quella di Rimini Che ha raccolto Anche alcune firme Sono 40 i medici Su una cinquantina Che hanno firmato Una lettera Proprio inviata Anche ai vertici Della Usla Romagna E della regione Quindi allo stesso assessore Donini Contestano appunto Il depotenziamento Della guardia medica Continuità assistenziale Come si dice adesso Perché poi All'interno Di questi centri Di assistenza e urgenza In buona parte Dovranno confluire Proprio i medici Di guardia medica Che sono però Medici di fatto Di medicina generale Medici del territorio Che dovrebbero seguire Una sorta di corso Perché Diciamo che È vero che i CAO Andranno ad occuparsi Di soggetti Codici bianchi E in parte Codici verdi Quindi Non di emergenze Però è anche vero Che è un altro percorso Proprio formativo Di formazione Ci sono una serie Di punti interrogativi Che riguardano anche Il numero unico 116 117 Perché Di fatto Questo è stato detto La prima risposta Telefonica Sarà fornita Da un operatore Non infermiere Non medico Che segue anche lui Un corso Ma sarà Diciamo Siccome Questa sorta di triage Telefonico Partirà Da una risposta Non da un addetto Ai lavori Da un esperto In ambito sanitario E solo in un secondo momento Passerà poi ad un infermiere Ed eventualmente Ad un medico E quindi Anche su questo Ci sono alcune perplessità Dalla guardia medica Hanno detto Ma è fondamentale Anche telefonicamente Capire Con chi si ha A che fare C'è poi Il problema Legato All'accesso Abbiamo sentito In questa fase Quando ancora Questo numero Non sarà attivo Le persone Dovranno recarsi Direttamente Ai CAU E quindi Bisogna sapere Dove sono Se ci sono E che tipo di patologie Devono seguire Per questo La regione Ha deciso di avviare Anche una campagna Informativa Che partirà Il prossimo primo Di novembre Con degli spot Televisivi Sul web In radio E anche Con una pagina Dedicata sul sito Della regione Le cosiddette FAC Vale a dire Le domande E le risposte Su cosa sono I CAU E su Quali tipi Di patologie Di situazioni Possono Accedere A questi Centri E non sarà Semplice Secondo me Va benissimo La campagna Informativa Nei confronti Dei cittadini Sicuramente Sarà utile Perché ci darà Un po' più Di chiarezza Certo è che Quando uno Deve orientarsi Dove devo andare Che strada Devo prendere Speriamo anche Che per chi Arriverà Magari Con una Urgenza Un'emergenza Si sappia Già Come muoversi E comunque Ci sarà qualcuno Che darà Le indicazioni Guardi Rispetto a questa Patologia Prenda questa strada Piuttosto che l'altra Non so bene Come Però tutti i cambiamenti Come sappiamo Creano un po' Di timori Il cambiamento Spesso È ipotizzato È pensato È studiato Per migliorare La situazione Da quando Ci cambiano La viabilità Sulle strade A situazioni Come queste Non è facile Soprattutto I primi tempi Orientarsi Anche nel cambiamento Però poi Speriamo anche Che chi l'ha studiato L'abbia studiato In modo Opportuno Io credo che Le perplessità Tu dici I cambiamenti Vengono fatti Per migliorare Il problema È quando I cambiamenti Vengono fatti Perché Dall'altra parte Ci sono Dei problemi Di risorse Di personale Di risorse Economiche E di personale Insomma Di persone E questo Lascia dei dubbi Sulla riforma Nel senso Se ci fossero state La riforma Sarebbe stata fatta Quindi Si va Verso un miglioramento To cure O si va Verso Il tentativo Di dare risposte Nonostante Ci siano Meno disponibilità Guarda Secondo me Da un certo punto di vista La sanità Ha Probabilmente Delle Delle falle Legate Magari Ad una Non corretto Utilizzo Anche Delle sue risorse Perché ci può essere Quello Per cui Se può essere Il cambiamento Utile Ad evitare Queste Che ne so Dei tempi morti Dei tempi burocratici Che invece possono essere Eliminati A favore Delle persone A favore Dei pazienti Anche a favore Dei medici Degli operatori sanitari Che così Riescono a Fare meglio Il proprio lavoro Cioè Sarebbe il top E poi è evidente Che ai noi Il cambiamento Non è solo dettato Da un migliorare Magari anche investendo Tantissimo Anche da una situazione Da cui Stiamo venendo E che ci stiamo portando Purtroppo avanti Già da diversi anni Salutiamo anche Anna Maria Maurizio Io resterai sul tema Perché questa pagina Con le domande frequenti È stata di fatto Già aperta Quindi senza dover attendere E ce ne sono alcune Magari con l'aiuto Della regia Andiamo anche a leggerle Per chi ci segue In televisione Con alcune domande Dalle più generiche Cos'è un cauma Questo bene o male L'abbiamo spiegato Nel servizio Quale tipo di prestazione Eroga Ma diciamo che Forse più nel dettaglio Per quali malesseri Di patologie Il paziente Deve rivolgersi Ai cao Che ricordiamo Trenta Nella regione Saranno operativi Entro quest'anno Sessanta Entro il prossimo Complessivamente Da noi partono diversi Tre ne partono Cattolica Sant'Arcangelo Nuova Feltria Cattolica e Sant'Arcangelo All'interno Degli attuali punti Di primo intervento A Nuova Feltria Resta il punto Di primo intervento Accanto ci sarà un cao Poi Quindi sono Diciamo anche molto vicini Fisicamente Questi luoghi Dopodiché Il Arimini Entro la metà Del prossimo anno Vicino all'ospedale Infermi Dovrebbe sorgerne Un altro Quando ci si può Recare O il paziente Deve rivolgersi Perché abbiamo detto In questa prima fase Fino a che non sarà Allestito il numero unico L'accesso è diretto Quindi Non hai nessun tipo Di filtro Volendo Per andare Secondo me funziona Tu vai Vedi dove c'è meno file E dici Adesso mi metto Aspetto qui Che sono meno Ho questa sensazione Ma andiamo avanti Medicazioni E altre prestazioni Infermieristiche Quindi insomma Fin qua ci siamo Lesioni o dolori agli arti Eritemi Sì Punture da insetti Febbre Lombalgia Dolori addominali Lievi traumatismi Ferite superficiali Anche qui Qual è superficiale Non superficiale Non stai perdendo Un litro di sangue Eh però Qua già andiamo Nel livello Dell'interpretazione Esatto Irritazioni cutanee Sì Dolori articolari O muscolari Coliche Sintomi influenzali Tumefazioni E qua Anche qua Un po' vago Secondo me Nausea o vomito Beh non sono poche C'è sono tantissime Anche perché Allora Io penso che Sappiamo bene Che eventualmente Lì ci saranno Delle persone Perché se noi abbiamo La febbre La febbre può essere Sintomo di mille altre cose Dolore addominale Può essere sintomo Di mille altre cose Per cui probabilmente Nella speranza Che la febbre Sia semplicemente Una influenza E che il dolore addominale Sia una Piccola colica intestinale Perché hai mangiato pesante Ok Però immaginiamo Che ci sia anche qualcuno Che poi possa Definire Perché sappiamo Poi c'è tutto l'aspetto Diagnostico Anche che viene fatto In modo diversificato Sì Anche perché I CAU dovrebbero comunque Essere dotati Anche di una diagnostica Di base Proprio per garantire Anche i primi interventi E saranno sempre presenti Lo spiega sempre Questo domanda e risposta Che c'è sul sito della regione Un medico e un infermiere Ovviamente Se gli accessi saranno tanti Un medico e un infermiere Diventa complicato Gestire la situazione Quindi si parla Di una dotazione Che potrà essere incrementata In funzione Dei volumi E della tipologia Di attività A regime Lo si diceva Dovranno essere aperti Sette giorni su sette 24 ore al giorno A regime Quindi non sappiamo In questa prima fase In realtà Che tipo di servizio Forniranno Presumo Andranno a coprire Quegli orari Magari notturni Visto che lì Saranno dirottati In parte I medici Di guardia medica Di continuità assistenziale Quindi immagino Saranno operativi Prevalentemente Negli orari In cui non sono operativi I medici di base Quindi fine settimana E l'orario notturno Vedremo 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 Andrè su questo Io mi riservo Perché secondo me Non sarà poi così Proprio semplice Come dici tu E poi c'è il tema Della formazione Per i medici E per gli infermieri Sarà modulata Sulla base Delle competenze Già possedute Per mettere I professionisti Nelle condizioni Di gestire Le situazioni patologiche Previste nella casistica Un po' Una cosa generica Poi noi Andando nel dettaglio Ci avevano detto Che comunque Gestire un paziente Come medico di base Gestirlo comunque Con un'urgenza No è proprio diverso Anche proprio Un lavoro diverso Cioè è vero Che sei sempre medico Ma è come dire Io sono medico Come se Sono giornalista Di crona Che sono giornalista sportivo Cioè è vero Siamo tutti giornalisti Però la formazione È un po' diversa Questo credo Che sia importante E tanti medici Che abbiamo sentito In questo In questo tempo Effettivamente Ci hanno spiegato Anche questa difficoltà E poi viene C'è una domanda Che probabilmente Si faranno in molti Ma cosa succede Se vada un cao E invece una patologia Che avrebbe bisogno Dell'intervento del 118 Viene subito preso in carico Il paziente E poi se ci sono sintomi Come dolore toracico Grave difficoltà a respirare Oppure improvviso Inusuale mal di testa Questo viene scritto Viene attivato immediatamente Il 118 Per il trasferimento in ospedale In questo caso Sappiamo che le strutture Dovranno essere Il più possibile contigue Quindi anche il trasferimento Sarà immagino Una questione Di pochi minuti Questo credo sia L'auspicio L'auspicio Decisamente Questo è un auspicio Però poi bisogna Vederle in pratica Tutte queste cose Visto che siamo In tema sanitario Direi di andare Con la nostra Lucia Renati A tutta salute Ma proprio andiamo Perché oggi In particolare Nella programma di ieri Lucia Non è stata in studio Ma è andata Sempre in giro È andata in giro Perché è andata Al museo della città Dove c'è una mostra È andata a vedere la mostra Gratis No, non è andata a vedere la mostra Ha approfittato della mostra Per parlare di temi molto importanti Ha parlato Una mostra di cui vi abbiamo parlato Tra l'altro anche Nei nostri appuntamenti informativi Si chiama Cervelli e stupefacenti Tra l'altro c'è tempo Fino a domani Se qualcuno è curioso E vuole andarla a visitare Siamo al museo della città Di Rimini Gli ospiti I dottori Teo Vignoli Che è direttore Dell'unità operativa Di dipendenze patologiche Dell'Ausla di Rimini Edoardo Polidori Ex direttore Delle dipendenze patologiche In questo caso Forlì Rimini E Patrizio Allamonaca Che è il direttore Della fondazione Nuovo villaggio Del fanciulo di Ravenna E con loro Lucia ha parlato Delle droghe Dell'impatto delle droghe Sul cervello E di come anche Una comunicazione adeguata Possa riuscire A far breccia Nei più giovani Che purtroppo Sono quelli più portati All'abuso di sostanze Vi proponiamo Uno strancio Della trasmissione Ricordandovi Che la potete trovare Nella sua interezza Su Icaro Play Bisogna adottare Dice lei Una logica Non coercitiva Non giudicante Non punitiva Cercare di far ragionare E riflettere le persone In particolare i giovani Ma questo tipo di approccio Funziona sempre? Non so cosa lei intenda Cosa bisogna dire A un quattordicenne Che fa uso di marijuana? Parliamone Vuol dire Parliamone Pensando che Un quattordicenne Che usa sostanze Non solo marijuana Un quattordicenne Che fuma sigarette Un quattordicenne Che beve alcolici Un quattordicenne Che usa cannabis Un quattordicenne Che usa cocaina Usa sostanze Ma ripeto Ce le metto tutte In una fase In cui il suo cervello È ancora in fase di sviluppo Ci dica lei Che cosa succede A un cervello Che è ancora in fase di sviluppo Ma che incontra Appunto una dipendenza Lo sperimentare Sostanze Ad un'età In cui il cervello Non è ancora sviluppato Teniamo presente Che la parte Diciamo così Impulsiva Più ancestrale Del nostro cervello Si sviluppa molto presto Mentre la parte Più cognitiva Più Nuova Diciamo Da un punto di vista Filogenetico Che ci distingue Dalla maggior parte Degli animali Invece si sviluppa Solo In maniera completa Intorno ai 20-25 anni Il problema di fondo È che nel corso Degli ultimi anni È cambiata Tantissimo L'utenza Che accede Ai nostri Servizi Mentre in passato C'era l'eroinomane Puro Che faceva una vita Da strada E quindi Si riusciva A fare anche un lavoro All'interno delle nostre Strutture residenziali Più specifico Particolare Oggi invece Gli ultimi anni Abbiamo accessi Di ragazzi Giovanissimi Addirittura A volte anche minorenni Perché Minorenni Di quanti anni Stiamo parlando Dottore? 16-17 anni Anche Sì Abbiamo richieste Di inserimento Per anche ragazzi Molto giovani Quindi si è abbassata Tantissimo l'età Si è abbassata L'età della prima Assunzione Di conseguenza Anche gli accessi Perché siamo arrivati Alla dipendenza Quella a cui accennava Anche il dottor Polidori L'uso L'abuso La dipendenza Quindi noi siamo Nella parte finale Quando il ragazzo Ormai È dipendente Dalla sostanza Il problema principale È che oggi I ragazzi Che accedono I nostri servizi Hanno anche Problematiche Psichiatriche È un'anticipazione Insomma meglio Uno stralcio Visto che poi La puntata è andata In onda ieri sera Di tutta salute Che tornerà comunque Puntuale la prossima settimana Ricordiamo la nuova collocazione Il giovedì sera Le 20 e 35 E già che parliamo Di collocazione Volevo ricordare La consueta collocazione Dei giorni della chiesa Questa sera Che però Parleremo di missioni Questa sera Però subito Dopo i giorni della chiesa Esordirà Bello La serata cinema La serata pop corn Di Icaro TV Poi magari In chiusura Andiamo a pescare Io so chi c'è Lo so Però ci dovrebbe essere Anche il trailer Che sta girando Ah c'è anche il trailer Secondo me Bisogna andarlo a cercare Assolutamente sì Facciamolo Perché questa sera Vi vogliamo tutti Non so in quale cartella È imbucato Prima tutti a guardare I giorni della chiesa Poi tutti sul divano Tutti prima a guardare Simona Mulazzani E gli ospiti Che per l'occasione Andrà in onda In bianco e nero In bianco e nero Va di in onda Sì ti piacerebbe Sul finale Quando lanci il film Ti fai mettere in bianco e nero Pensavo di vestirmi di rosso Il rosso come viene in bianco e nero Viene in nero Il bianco e nero Per te quindi Che sei dal tonico Il bianco e nero è perfetto Non ci sono problemi Intanto Sant'Arcangelo Si prepara ad ospitare La fiera di San Martino Però prima di Sant'Arcangelo Tu hai scoperto Una cosa sui cari Molto interessante Scusa Perché guarda Che questa cosa qui Non è da poco La tua scoperta Io sono uno scopritore Io e Colombo Siamo sullo stesso livello E Abbiamo scoperto Che Icau Per quelle Tipo di Urgenze Di cui abbiamo parlato Prima Insomma Nausea Vomito Febbre Dolori articolari Se ci si reca Icau Non viene pagato Alcun ticket Per la prestazione erogata Invece ricordiamo Che in pronto soccorso Quando si tratta Di patologie di questo tipo Di problematiche di questo tipo Insomma i codici bianchi Per dirla Invece viene pagato Poi il ticket Assolutamente Questo potrebbe essere Forse Un'arma Tra virgolette Interessante Da giocarsi Perché comunque Quando si tratta di pagare Uno magari dice Sto male Ma non malissimo Passo dal cao Poi se il cao dice Devi andare al pronto soccorso Ovviamente si va al pronto soccorso Certo Però diciamo Che questo passaggio Avviene in maniera indolore Cioè non ha rischi Di dover pagare un ticket Se poi in realtà La tua Fortunatamente La tua patologia È lieve È una notizia Molto interessante Ma adesso andiamoci A San Martino Molto volentieri Quest'anno San Martino Viene di sabato Quindi diciamo Che entra pieno Nelle feste Del fine settimana San Martino Ha questa cosa Che lo dobbiamo bloccare sempre Perché c'è un messaggio Proprio su questo tema Che arriverà a Giorgio Che dice Praticamente Si potrebbe evitare Il pronto soccorso Questo diciamo È uno degli obiettivi Limitare i casi Meno urgenti Che invece vanno Magari ad affollare Il pronto soccorso L'obiettivo Giorgio È proprio quello Faranno molto Faranno anche Il reparto Miracoli Quello c'è un sacco Di gente Esatto C'è un sacco Di gente E vabbè Ma lasciamo I miracoli Per le cose Importanti Affidiamoci Ai bravi Sanitari E adesso veramente Andiamo alla fiera Di San Martino Uno degli appuntamenti Più attesi dell'autunno Non solo a Sant'Arcangelo Ma da tanti riminesi Che affollano Le strade clementine In quei giorni Andiamo a sentire Quali sono i principali Punti del programma Che sono già stati presentati Un fine settimana lungo Da giovedì 9 novembre Fino a domenica 12 Per la fiera di San Martino A Sant'Arcangelo Con un'anteprima Domenica 5 novembre Saranno oltre 100 I punti dedicati al cibo Fra osterie Food truck Street food Ambulanti Birrifici E case vinicole Un centinaio Anche gli ambulanti Di campionaria Agricola Artigianato E creazioni varie Ma ci saranno anche Gli esercenti Del centro commerciale naturale Che potranno esporre I propri articoli Davanti ai loro negozi E ancora Eventi tradizionali Come il palio Della piadina E la sagra Dei cantastorie Iniziative dedicate Al dialetto Visite guidate Alle grotte Partite di tamburello Prove di tiro Con l'arco E tanto altro Per i più giovani Ci sarà Il Luna Park In Piazzale Campana Attivo Attivo già da venerdì Ti faccio bene L'hai presa tutta quanta Tutta io In effetti alle 6 e mezza 7 questa mattina C'era una Delle nuvole Molto pesante E alle 6 ti dico Guarda È iniziata a diluviare Perché sono di 10 minuti Ma di pioggia intensa Intorno alle 7 e 46 6 Dopo dipende dove sei Cioè in quale parte Del territorio sei All'altezza del palacongressi Diciamo così Per geolocalizzare l'area Fantastico Ieri è stato presentato Il dossier statistico Immigrazione 2023 Perdonatemi se non Sarà molto articolato La mia esposizione Ho stampato Dalle 450 pagine Del dossier Che è stato presentato Proprio ieri Nel pomeriggio E poi pubblicato Alcuni dati relativi Alla regione Emilia Romagna Si parla di Popolazione straniera Residente E diciamo che I numeri ci restituiscono Un calo Degli stranieri residenti Sono i dati Aggiornati dall'Istat Al dicembre del 2022 Quindi insomma Gli ultimi dati a disposizione In Emilia Romagna Sono residenti 548.755 stranieri Erano Poco più di mille In più Lo scorso anno C'è uno calo dello 0,2% Quindi qui praticamente I numeri stabili Calo dello 0,2 Che è più consistente invece In provincia di Rimini Dove il calo è dell'1,5% E tra l'altro Rimini Ma dietro solo Ferrara Per quanto riguarda L'incidenza Della popolazione Straniera Residente Sul totale Degli cittadini Facendola molto semplice Si parla del 10,8% Quindi praticamente Poco più Poco meno Una persona su 10 Una persona su 10 O 10 su 100 Sono stranieri Si parla di 36.355 Stranieri residenti Erano 36.905 Lo scorso anno Tra l'altro Poi Ci sono anche altri dati Che sono stati forniti Come i soggiornanti Non comunitari Che in provincia di Rimini Sono 29.996 Con un aumento In questo caso Dell'8,5% Quindi vuol dire Che aumentano I soggiornanti Non comunitari Ma lì forse Questo siamo relativi Al 2022 Tutto il 2022 E dopo oggi Quindi stiamo anche Parlando del periodo bellico E quindi si parla Forse anche Di una presenza Di persone arrivate Anche Però c'è un altro dato Da prendere in considerazione Che vengono Si parla anche Dei lungosoggiornanti Che rispetto a questi Quasi 30.000 Sono il 63,1% Ed è la Percentuale riminese E la stessa percentuale Dell'intera regione 63 63 Comunque diciamo Che rispetto alle altre Provincie delle Miglia Romagna Sotto di noi Come presenza straniera Di residente C'è solo Ferrara Quindi diciamo Che sul nostro territorio Date alla mano Più o meno Appunto come dicevamo Una persona su 10 È straniera residente Perché poi ci sono anche Persone che magari Hanno solo un domicilio Stanno per periodi brevi Sto leggendo Leggo in corso d'opera Questa tabella Perché non ho avuto Tempo di studiarla Però rispetto a quello Che dicevi Ti posso dire Che di questi Soggioramenti Non comunitari Nel riminese Quasi 30.000 Il 35,8% Sono titolari Di protezione Il 3% Sono richiedenti Asilo La cosa che salta All'occhio È che la media Regionale Dei titolari Dei titolari Di protezione Residenti È del 19,3% Quindi nel riminese È quasi il doppio Della media Del resto Della regione Emilia Romagna Poi ci sono Tutti un'altra serie Di dati Con cui non sto A tediarvi Che sono quelli Residenti stranieri Per cittadinanza E qua è la Romania Che in tutta la regione La fa da padrona Poi ci sono Gli studenti stranieri Per cittadinanza I titolari Di imprese Individuali I cittadini italiani Invece residenti All'estero E poi i dati Sul mercato Del lavoro Ma che si sono dati Globali Regionali Quelli di dettaglio Provincia per provincia Almeno quelli Che sono riuscito A trovare Ieri Ieri sera Sono solo quelli Che vi abbiamo dato Comunque sono dati Specialmente questo Che riguarda I titolari Di protezione Che possono essere Anche Fornire spunti Di riflessione E beh no Anche Direi che Così A caldo Direi capacità Di accoglienza Del territorio Perché comunque Se tu accogli persone Che vanno protette Perché arrivano Da delle situazioni Particolari Credo che sia Un segno importante Da parte Del nostro territorio Pensavo Andrea Che appunto Abbiamo ormai Traguardato Per la questione Di riccione Del consiglio di stato E via dicendo Ormai ottobre è andata Nel senso che L'unica possibilità Perché se ne sappia Qualcosa ad ottobre È il prossimo martedì Che appunto Sarà il 31 Sperando che il consiglio Di stato Non faccia il ponte A due archi Come dicevamo prima E quindi la settimana Prossima decida Di Viste le giornate Di festa Di non esprimersi Però Riccione Continua il dibattito Politico Continua chiaramente La preoccupazione Anche dei tanti Delle scadenze L'occasione di Rizziero Santi Era stata Chiamare in causa Il consociativismo Esatto Che il partito Democratico Non è a favore Del consociativismo Anche se poi Nei giorni seguenti Sui quotidiani C'erano state invece Delle aperture Da parte del partito Democratico Ma anche delle dichiarazioni Da parte Della ex sindaca Daniele Angelini Che invece avevano Diciamo Sembravano andare Nel senso opposto Dicendo Sì va bene Parliamo Mettiamoci al tavolo Però con certe persone No Quindi insomma Un colpo al cerchio E uno alla botte Infatti insomma Giusto per Sottolineare Ancora queste questioni Riccionesi I giornali Ne avevano già parlato Nei giorni scorsi La nota ufficiale È arrivata ieri Del fatto che I comitati Scelgono per Il ponte di ogni santi Il fai da te Nel senso Che faranno Una serie di iniziative Patrocinate dal comune Quindi probabilmente È stata anche La commissaria A dire fate Andate Noi vi diamo Anche una mano Per quanto Possibile Per cui Con questa indicazione Anche della sobrietà Che arriva un po' Su tutti i fronti Anche in vista del Natale E quant'altro Però ci saranno Una serie di appuntamenti Che già partiranno Questa domenica E proseguiranno Fino al 5 novembre Legati un po' Al ponte Legate insomma Anche per i più piccoli Fantasmi Moste E quant'altro Insomma Ma sai che io non sono Una grande affezionata Di Halloween Quindi insomma Si chiama Riccione Mi strega Questo appuntamento Con eventi Un po' In tutti i giorni O comunque allestimenti In particolare Ci sarà Un villaggio A tema Su Piazzale Roma E in particolare Nel pomeriggio Del 31 Con la speranza Che ci sono tante famiglie In giro Anche con Intrattenimento Trucca bimbi Parate Sfilate E via dicendo Vado a fare il trucca bimbi Vado a fare il trucca bimbi Non a truccarli Sai che io non sono Molto per questa festa Però Il trucca bimbi C'è a prescindere Ma come mi truccano Se mi truccano Da strega Da farfalla Da farfalla In quei giorni lì Non ti truccano Da farfalla Ma perché no Se chiedi E va bene Salutiamo anche Gian Maria E Mirko Buongiorno Ad entrambi E adesso che ci resta Lo sport ci resta Allora io direi Chiamiamo il nostro Roberto Bonfantini Che dovremmo Spero Trovare In un fermo Da qualche padre Che sta muovendo Per lavoro Sempre super indaffarato Però finalmente Rimini ha vinto E volevamo Parlarne con lui Di questa Di questa vittoria Cosa dice Andrea Cioè è stato comunque Un appuntamento Importante Tanto Rimini Che momentaneamente Lascia l'ultimo posto In classifica Salendo a otto punti Rimini che Segna due gol E non ne subisce Non succedeva Da tantissimo tempo La peggiore difesa Del campionato Non subisce gol Quindi già questa È una notizia E porta a caso Una vittoria Netta Abbastanza convincente Che lascia Ben sperare Per il prosieguo Anche se poi Subito Il prossimo lunedì Ci sarà una prova importante A lunedì sera È vero Perché si va Credo anche A casa Di una diretta Concorrente In questo momento Che è subito davanti Al Rimini in classifica Però diciamo Che ci sono O a pari punti Ci sono le premesse Perché è sembrato A chi l'ha visto Il Rimini più bello Della stagione Allora noi sentiamo Proprio dalla viva voce Di Roberto Bonfantini Un po' Della partita A ieri Roberto Buongiorno Buongiorno a voi Bentrovati a tutti Allora raccontaci bene Tu c'eri Hai visto Hai potuto Io c'ero visto E sono tra quelli Che ha visto In Gran Berrimini Però ho capito Che cosa Intendesse Mister Emanuele Troise Ovvero Un po' L'atteggiamento Un po' La voglia di sacrificarsi Un po' L'essere squadra Quello che un po' Era mancato Se vogliamo In tante giornate Troppe giornate Se vogliamo Precedenti Rispetto a quella Di ieri Che era la decima giornata Quindi insomma Già trenta punti In palio Se ne sono andati Rimini ne ha messi In cassaforte Appena otto Però come giustamente Ricordava Andrea È una vittoria importante Perché lascia Partendo dalla classifica Che comunque Non è un dettaglio Lascia l'ultimo posto Alla fermana Che è ultimo a quota sei Salendo a quota otto Raggiunge Juventus Next Gen E Sestri Levante Ricordiamo Con la Juventus È arrivata L'altra vittoria Di questo campionato Del Rimini Tutte tra l'altro E due Alla Romeo Neri Non sono tante Però insomma Sono arrivate in casa E adesso lunedì sera Andrà proprio sul campo Del Sestri Levante Altra squadra raggiunta Si giocherà Probabilmente in Toscana Più che in Liguria Però sarà importante Magari Centrare lì In quell'occasione La prima vittoria Esterna Di questa stagione Anche perché Si darebbe Una importante continuità A questi due risultati Utili consecutivi Conquistati in casa Perché ricordiamo Anche contro l'Ancona Si era giocato Romeo Neri E quindi Rimini ha messo Quattro punti In classifica Nelle ultime Due partite Quindi ha sfruttato Tutto sommato bene Il doppio turno Il doppio turno a Casaringo E adesso Quindi si aspetta Qualcosa Invece di importante Anche in trasferta Magari proprio Sul campo Del Sestri Levante Che è una diretta Concorrente In questo momento Per la corsa La Salvestre Nella quale È impelagato Il Rimini E questo è il primo obiettivo Di Biancorossi Tornando alla partita Di ieri Una partita Che il Rimini Ha approcciato benissimo Con gli occhi della Tigre Aveva provato Anche ad approcciare In questo modo Contro l'Ancona Ma si era perso Dopo pochissimi minuti Dopo 5-10 minuti Già erano stati I 12 A prendere il pallino Del gioco E poi è rimasto Nelle mani Dei marchigiani Per tutto il resto Del primo tempo Invece in questo caso Il Rimini Subito Ha quasi azzannato Il match E al settimo Ha trovato Il terzo a fondo Quindi Con già Due buone opportunità Per il Biancorossi Un tiro di Morra Respinto di piede Dal portiere Chiorra E un colpo di testa Di Lombardi Su invito Di La Mesta Quindi al terzo tentativo Già al settimo Il Rimini Ha trovato il vantaggio Con un tapine di Lombardi Dopo una bella iniziativa Proprio di La Mesta Che è riuscito A provare un uno contro uno Ha riuscito A far passare il pallone Sotto le gambe Di Benassai C'è arrivato Chiorra Ma nulla ha potuto Sulla tapina Di Lombardi Molto bravo In questi inserimenti Quindi Rimini che ha trovato Questo vantaggio Quasi lampo E questo è stato importante Perché ha dato fiducia E una maggiore autostima Visto che era Molto basso il livello Di autostima Di Biancorossi Per tutto il resto Del match Rimini che ha continuato Si è un po' Abbassato dopo il vantaggio Nei minuti immediatamente Successivi Abbassato un po' Il baricentro Quindi ha rischiato Di tornare In un vecchio Errore Insomma Già commesso Di rifarlo Però dopo Rimini si è rifatto Ha riguadagnato Metri Ha ricominciato A giocare E anche Riuscito a costruire Dal basso Anche delle trame Interessanti Cosa che non avevamo Praticamente mai visto In questa Annata E secondo me In effetti è stata Forse una migliore partita In assoluto Credo la migliore partita Giocata dei Biancorossi In questo primo scorso Scorso di stagione Però Io ci metto anche La partita sul campo Della Torres Dove a me Rimini era piaciuto Parecchio Soprattutto Per quanto riguarda La prima Ma nel complesso Era stata una buona gara Sul campo Della Capolini Quindi alla fine Questo Rimini Può giocare bene Nel senso che Qualcuno La squadra Non c'è I giocatori Non sono all'altezza Ne abbiamo sentite tante Ma in realtà Forse vuol dire Che non è solo quello Non è quello il problema Non è solo quello Allora Secondo me Questa è una squadra Che comunque Dovrà ricorrere Al mercato In maniera abbastanza Massiccia A gennaio Quindi non è una squadra Costruita benissimo Perché ci sono comunque Dei settori Dove è evidente Che qualcosa manchi Per esempio Ieri ha giocato Terzino sinistro Tofanari Che può giocare Anche sinistro Piede invertito Però diciamo È un giocatore Duttile Che solitamente Staziona a destra O al centro Della difesa Quindi Insomma È chiaramente C'è chiaramente Un buco lì a sinistra Perché i giocatori Che sono arrivati Evidentemente Non stanno dando Perlomeno in questo momento La giusta solidità Che ci si aspetta Anche però Dall'altra parte Anche a destra Il Rimini Diciamo che Fino a questo momento Non ha trovato Delle prove Particolarmente convincenti Da diversi Suoi interpreti Perché anche lì Diciamo che Sulle due fasce Difensive Qualcosa Manca E qualcosa Probabilmente Manca anche Sulle mediane Ha tenuto conto Che Rimini È ancora privo Di Delcarro Già dalla passata stagione E si è fatto male Anche Marchesi Invece Lombardi Ha avuto Dopo Ci ha spiegato Nel dopogara Non è nulla Quindi di grave Sarà già a disposizione Per lunedì Ha avuto Un momento così Diciamo Di Diciamo Di smarrimento Per un colpo Subito alla testa Quindi è stata una cosa Proprio legata Al match A un colpo Alla testa Insomma subito Durante la partita Quindi Si è già ripreso Anche ieri Già Dopogara Insomma Ha tranquillizzato Tutto l'ambiente E quindi sta bene Ed è pronto Anche per la prossima gara Perché sarà importante Soprattutto sulla mediana Che Rimini Abbia i suoi migliori Interpreti In questo momento Rimini che poi Tra l'altro Altro dato Importante Dopo una vita Ha avuto due rigori Due partite Praticamente a favore Perché al 32 Siamo dalla ripresa È arrivato appunto Per una gomitata In faccia I danni di Langella Che ha comportato Anche l'espulsione Tra l'altro Di Ben Asciai Per doppia munizione Aveva già stato munito E quindi questa gomitata Al volto del centrocampista Bianconosso Ha fatto scattare Il secondo cartellino giallo Per appunto Un intervento violento E quindi è arrivato Il secondo rigore consecutivo Sempre trasformato Da Morra Sempre spiazzando Il portiere E quindi Rimini Che si è portato Sul 2-0 Ecco Soltanto quando Rimini È stato avanti Di due gol Il portiere Bianconosso Ha dovuto fare L'intervento Più importante Del match Quindi Colombi Ha sventato Un colpo di testa Ravvicinato Da parte Di Cangeniello Però questo è emblematico Perché vuol dire Che Rimini È riuscito A far tirare Poco L'avversario Soprattutto Per tirare Poco nello specchio Visto che quello è un po' Il suo tallone d'Achille Roberto Ricordava Andrea Che appunto Ricordavi anche tu Che lunedì sera Ci sarà la prossima Quella che si chiama Prova del 9 Dopo due prestazioni Increscendo Adesso Rimini è chiamato Conferme 20 e 45 Quindi immagino Che cambierà Anche la programmazione Del Sportiva Del lunedì Certo Sì sì Perché Quando il Rimini Gioca di lunedì Noi anticipiamo La serata basket Alle 21 e 20 In quella che di solito È la fascia del Rimini Quindi 21 e 20 22 Serata basket Poi Super goal Preceduto dal TG E dopo Torniamo Appena finisce la partita Quindi alle 22 e 45 E ne parliamo A proprio La commentiamo a caldo Fino alle 23 e 30 Però Volevo Chiudere Per quanto riguarda I dati positivi Del match di ieri Visto che una volta Tante che ce ne sono Diciamoli tutti Il Rimini Ha chiuso Con la porta inviolata Questo non accadeva Dal 14 marzo 0-0 Con la Torres E quindi stiamo parlando Dello scorso campionato Ma comunque Anche nel finale Passata stagione Il Rimini Il gol aveva sempre preso E questo è un altro dato Da non sottovalutare In questo 2-0 Con la Lucchese Che sicuramente Regala tanto Proprio in prospettiva Di quella partita Importante E fondamentale Da non sbagliare Lunedì sera Sul campo Del Sestri Levante Roberto Grazie di cuore Per averci aggiornato Per averci raccontato Con la tua voce La partita di ieri Appunto Aspetteremo di vedere Se questo cambio Di passo del Rimini Sarà confermato Anche sul campo Lunedì sera Grazie Buona giornata Buon lavoro Grazie a voi Buona giornata a tutti Un aggiornamento Che riguarda La situazione Meteorologica Dalla pagina Dell'Allerta Meteo Emilia Romagna Insomma Sappiamo che da noi C'è stata qualche Pioggia Ma tutto sommato Situazioni gestibili Nelle prossime ore Questa è una nota Delle 8 di questa mattina Quindi Parliamo proprio Di dati recenti Si prevede Un'attenuazione Delle piogge Sul crinale appenninico In spostamento Verso il settore Centro orientale Le precipitazioni Stanno generando Nuovi innalzamenti Dei livelli Idrometrici Nei tratti montani Dei fiumi Parma Enza Secchia E Panaro Che causeranno Un prolungarsi Dei colmi di piena Nei tratti a valle Quindi abbiamo un'area Della regione Che ha le prese Con una situazione Che in Romagna Abbiamo vissuto Nel mese di maggio Speriamo che non sia Di quella entità Perché insomma Si parla di colmi di piena E che possa rientrare Rapidamente Mi ha incuriosito Andrea Ho visto che questa mattina Ne parlano entrambi I quotidiani Di questa idea Ma credo che sia più Che un'idea Da parte del governo In particolare Il piano del mare Questo piano del mare Che è stato Appunto Elaborato Lo spianiamo Non funziona così No L'esecutivo In sostanza Ha detto una linea Con questo progetto E dice In spiaggia Sulle spiagge italiane Su tutte le spiagge italiane Ci devono essere Più servizi E più intrattenimento Apriti cielo C'è nel senso Arrivi C'è già C'è già Però si apre Tutta la questione Dei ciringhito Ciringhito sì Ciringhito no Ciringhito con la musica Senza musica In piedi Seduti Fino alle sette Fino alle otto Fino alle dieci Fino alle undici Ma calma Non dire tutta Eh no però Abbiamo sentite Tutte queste cose Bene Allora Pare che Appunto Questo cambiamento Possa effettivamente Innestare Anche delle novità I quotidiani Hanno anche sentito Mauro Valni Che ricordiamo Insomma È presidente Dei bagnini Riminesi Insomma Di Confartigianato Imprese balneari Anche a livello nazionale Però insomma Parlando di Rimini Lui dice Rimini è pronta Alla svolta Ma servono Delle regole chiare Che è un po' Quello che si va dicendo Non dice mai nessuno Esatto Un po' Questo abbiamo già sentito Perché lui Effettivamente Come diceva Andrea Cioè noi a Rimini Questo tema L'abbiamo imboccato Già da tempo Insomma Credo che Sia abbastanza evidente A tutti Diciamo che la discussione Riguarda in modo particolare Il tema della musica E del ballo Perché poi sappiamo Che I grandi Problemi Sorgono Quando all'interno Dei ciringhiti Vengono organizzate O non organizzate Ma capita Serate danzanti Dopodiché Chi gestisce Le discoteche Chi rappresenta Il mondo Dei locali Da ballo Dice ma come Insomma Lì non si potrebbe E si fa Però dopo c'è un tema Di concorrenza Di regole Di sicurezza Di regole Di sicurezza Anche di pagamenti Perché insomma C'è chi si attrezza Per gestire attività Di un certo tipo E chi non è attrezzato Ma comunque Ospita attività Di un certo tipo E quindi Si viene a creare Una concorrenza Che per alcuni È sleale Nonostante Non si sappia nulla Di quello che succederà Sulla spiaggia Di chi sarà Il proprietario In realtà Di chi gestirà Le spiagge Ti verranno affidate A me Tutte le spiagge Farò ballare tutti Da mattina a sera Chiamo Matteo Monaret Facciamo un DJ set E andiamo avanti È vero? Ma non li fa più DJ set Allora volevo dire Però che appunto Secondo me Su questo piano del mare Su questo piano del mare Noi siamo più avanti Del piano del mare Poi per carità Potrebbe Sì nel senso Che noi Quest'idea dell'intrattenimento Dei servizi Sulla spiaggia Cioè io Le ho viste Alcune spiagge In giro per l'Italia Cioè effettivamente Lì forse Cioè immagino Che il piano del mare Possa dare anche Una svolta Per alcune Per alcune attività Noi abbiamo già Dato tanto Però potrebbe esserci Che tra le pieghe Delle linee Che saranno proposte Qualcuno possa dire Bene Allora ballare Sulla spiaggia Si può Però Vanni dice In spiaggia Non si può fare tutto Perché evidentemente Non ci sono le condizioni Per quello che poi Dicevi tu Un istante fa Però un tema interessante Insomma Chissà se ci riguarderà In modo significativo Questo piano del mare Oppure in qualche modo Il governo L'ha copiato da noi Ieri è stata giornata Di dossier statistici Di rapporti Abbiamo detto Quello sull'immigrazione Ma c'è stato anche Il rapporto Ispra Che fornisce la percentuale Di suolo consumato A Rimini Nel 2022 È aumentata Dello 0,1% Uno dice poco Però in realtà Rimini è già molto Cementificata Di poco superiore Allo 0,16% Quella registrata Cattolica Mentre più alti Sono gli aumenti Negli altri comuni Con un picco Indovina un po' A Riccione Con un più 0,38% Cattolica 61,78% E Riccione 51,69% Sono le città Che risultano Più cementificate In Emilia Romagna Molto invece Al di sotto dei lavori C'è Bellaria e Giamarina Che non arriva neanche Al 30% È una buona notizia Quella di Anche Rimini e Morciano 27,3% Eh sì sì Infatti anche questi dati Possono essere Molto interessanti Da leggere Allora noi non restano Che pochi minuti Abbiamo detto del meteo Abbiamo trovato Il trailer del film Abbiamo trovato Il trailer del film Abbiamo trovato Abbiamo trovato Allora noi Annunciamolo come si confà Per i grandi appuntamenti Perché Icaro Da oggi Da questa sera Ogni venerdì E poi in replica Il sabato Nel primo pomeriggio Alle 14 Si apre al cinema Io dico grande cinema Perché il grande cinema Non è solo Il film recente Il filmone Il blockbuster Questi sono film Che hanno fatto la storia Del cinema E quindi se non sono Grandi questi Ti dico solo Andrea Che insieme In questo film E lo sono andata A guardare nel dettaglio Anche tutti i credits Finali Ma chiaramente E quelli iniziali Ci sono Aldo Fabrizi Walter Chiari Alberto Sordi E poi c'è ancora Peppino De Filippo Ma guarda che secondo me Nel trailer No sì no Per dire che Era una Magari Perché è un film Del 1955 Però vederli tutti insieme Le musiche sono di Nino Ronda A che ora Quindi subito dopo I giovani della chiesa Quindi sì puntuale 21 e 30 direi 21 e 30 Un'ora No Duro 50 minuti Cioè dura La durata 21 e 30 Sì sì Quello è l'obiettivo Arrivare a Proporre il film Alle 21 e 30 E adesso Ci guardiamo il trailer Di Accadde al penitenziario Se è un merito Presentare in un solo film Un così invidiabile Complesso di Beniamini Di tutti i pubblici Sappiate che Maggior merito È di averli riuniti In un film Non ad episodi Ma fondato Su una vicenda unitaria Anche quando Vi rimproverate Siete affettuti Ti sei voluto sposare E fate a casa Che mi sono sposato io Sarà presentato Prossimamente qui Qui Prossimamente Questa sera Alle 21 e 30 Esatto Prossimamente Questa nuova rubrica Che vi proporrà Sia film Datati Di una certa Di epoca Del bianco e nero Ma che hanno fatto La storia del cinema Ma ce ne saranno Anche di più recenti Perché insomma Abbiamo i nostri esperti Di cinema Hanno fatto una Accurata selezione Esatto Esatto Diciamo che erano anni Che volevamo Una serata cinema E ce l'abbiamo Finalmente fatta Quindi siamo felici Che il nostro palinsesto Si arricchisca Tra l'altro domani Però non ho ancora I dettagli sull'orario Parte anche la nuova Trasmissione di Maurizio Ceccarini Che va a rileggere Alcuni degli eventi Più importanti Del nostro territorio locale Grazie anche A degli ospiti In collaborazione Con Il Ponte Cioè sarà Il Ponte Il settimanale Il Ponte A farci rileggere Alcune pagine Di storia riminesi Grazie alla sua storia Che è una storia Molto importante Quindi domani Subito prima del film In questo caso E quindi siamo lieti Che stiano partendo Tante trasmissioni Proprio in questi giorni Io tra l'altro Punto a avere Le telenovelas Ma che le telenovelas Prendete quelle Dove c'era l'audio Tutto fuori sincro Quelle belle Che uno parlava E sentivi l'audio dopo Quelle esti D'americane Perché se poi Le mandavano dall'Argentina C'era una latenza Perché il video Te lo mandavano L'audio era in presa diretta E quindi arrivava Con quella Era un problema Di latenza Abbiamo delle foto Da mostrare Abbiamo due foto Due foto Oggi vuoi chiudere No no Io non voglio chiudere Vuoi andare a provare La giacchetta rossa Per rigiornare a chiesa Mi devo preparare Anzi ci sono delle conferenze Stame Devi andare in sala trucco Non ci andiamo E Lella ci ha mandato Le foto del piatto Del giorno Di ieri In realtà è un doppio piatto Sono pasta e fagioli E pollo Pasta e fagioli top Pasta e fagioli top Poi quando te le impiattano Così Guarda che bello Secondo me Per la serata film Pasta e fagioli Sono perfetti Poi popcorn Ma prima pasta e fagioli Passiamo anche al pollo Perché il pollo Poi prendi le cosciettine Gli dai dimorso Mentre guardi il film E poi ti ungi anche un po' Ma è bello Bisognerebbe metterli In quei cartoncini Quei bicchieroni Che ho in America Che hanno i bicchieroni Con il pollo dentro Beh guarda qua Che bella Pasta e fagioli E pollo Questo è il nostro piatto del giorno Il nostro consiglio Del venerdì Per passare Anche con la pancia piena Una bella serata In compagnia di Carotv Con i giorni della chiesa Poi c'è il film Poi non so cosa c'è dopo Ma comunque Poi siamo in onda sempre Quindi non è che Ci siamo Ci siamo Ancora una volta Ricordiamo Questo pomeriggio La diretta Da Piazza San Pietro Con Papa Francesco E la preghiera Per la pace In questa giornata Che lui Insomma invita tutti A ricordare In modo particolare E quindi noi siamo anche lì Abbiamo anche questa possibilità Grazie appunto Alla nostra partecipazione Al gruppo Delle televisioni Dell'Associazione Corallo E proprio Al nastro Dell'arrivo Arrivano anche i saluti Di Nunzio Che ci dà il buongiorno Dice Non mi sono dimenticato di voi Buon weekend A tutti E a chi vi ascolta E soprattutto Anche a tutti gli amici Che ci stanno ascoltando Abbiamo news dell'ultima ora Perché Ah sì Come nelle grandi trasmissioni Adesso ci colleghiamo Con la redazione Per sapere se ci sono Delle news Dell'ultima ora No Non mi sembra Non c'è nulla Non c'è nulla Da aggiungere Abbiamo detto tutto Questa mattina Abbiamo detto praticamente tutto Questa mattina Anche più Anche di più Esatto Abbiamo sfogliato Le pagine del giornale Abbiamo legto le notizie Dal sito Abbiamo proposto i nostri servizi E domani poi cambia l'ora Te lo volevo dire Che A domani cambia l'ora Sì nella notte Si va avanti di un'ora Si va Andrea non si va avanti Dovevo ripartire Ancora un'altra volta Dai ti volevo prendere In castagna Si va indietro Si va indietro Quindi si dorme un'ora in più Dalle tre si va alle due Quindi si dorme un'ora in più Esatto Hai dato anche falsi informazioni su questo Cioè proprio stamattina Ma noi non sappiamo nulla Perché era un'altra trasmissione Quella che ci precede Quella che ci precede Tempo fake Ma per fortuna Che abbiamo degli ascoltatori Così a tempo Perché uno magari Ascolta la radio Dice Vabbè dicono delle cose Mi tengono compagni Quindi ricordiamo Si torna indietro Si passa all'ora Quindi se voi Ero fatta alle due Dove sarà l'una Si in realtà Danno sempre le tre Come discrimine Di solito A meno io Sui giornali Mettono sempre O dalle due Passi alle tre O dalle tre Passi alle due E quindi alle tre Passiamo alle due Perché pensano Che allora tutti Siano già a letto Quindi uno la sistema Poi domenica Alle quattro del pomeriggio È buio Però intanto Abbiamo dormito un'ora in più Non lo so Io non sono così convinta Io si Tu sei convinto Sono convinto Con te Antonio Per cui insomma Io addirittura Non ho dubbi I nostri ascoltatori Siano dalla tua parte Anche quando faccio gaffes Ma si Ma ti perdonano tutto Andrea Ti però perché Ti vogliono bene Perché non solo Ti vogliono bene Stimano la tua professionalità Ma perché deve finire Sempre con queste cose Non lo so Salutiamo Noi ci ritroviamo Lunedì contemporanei Tra poco Se gli faccio un complimento Non va bene Non gli faccio i complimenti Diciamo Fai tutti i complimenti Agli altri A me non mi fai mai complimenti Mai detto Noi torniamo lunedì Tra poco Max Alberici E Matteo Monaretto Con faccio cose Vedo gente Si parleranno Dell'ora legale Solo dell'ora legale Solare E vi ricordo appunto Il giorno della chiesa Questa sera Il film dopo Ma nel pomeriggio Come dicevi È dalle 17 17.55 Entriamo in diretta Perché la preghiera È a partire dalle 18 Per cui vi aspettiamo Tutta la nostra giornata Praticamente rimanete accesi Fino a questa sera Alle 23 con Icaro A mio avviso È un'ottima scelta Poi alle 23 vi spegnete Ci ritroviamo lunedì Buona giornata E buon fine settimana Tempo reale L'informazione in diretta Della provincia di Rimini Della provincia di Rimini We're a long way From home Haven't seen you In so long But it all came back In one moment And the years Started cold There he is